La collaborazione tra T-Next Cyber e Google nasce con l'idea di portare a valore la nostra esperienza unita alla grande capacità di detection e di ricerca in tempo reale delle minacce da parte di Google. Riteniamo che mettere a fattore comune queste due expertise possa portare ai nostri clienti estremo beneficio. Possiamo rispondere alle più raffinate esigenze di sicurezza dei nostri grandi clienti ma anche assicurare alla piccola media impresa italiana una possibilità di difesa mai raggiunta prima. L'impegno di Corvalis ma direi dell'intero gruppo T-Next Cyber è quello di rendere disponibili al mercato della cyber security soluzioni in grado di far fronte alle minacce di sicurezza a cui sono soggette le nostre aziende e i nostri enti. I nostri servizi gestiti che possiamo definire full stack innalzano in maniera considerevole le capacità di difesa delle aziende e degli enti. Rendiamo disponibili soluzioni proprietarie e di mercato, proprietarie quindi italiane sviluppate in Italia e di mercato di classe enterprise come ad esempio Chronicle di Google. Chronicle trova all'interno del stock Swaskan una struttura che è già abituata ad integrare nuove soluzioni, una struttura che ha dimostrato nel corso di questi anni di essere multiprend. Da un lato abbiamo un team di ragazzi e ragazze del stock Swaskan che hanno dimostrato nel corso di questi anni la propria capacità, competenza e soprattutto esperienza. A questo aggiungiamo anche i dati privilegiati, dati e informazioni che riusciamo a estrapolare dalla nostra piattaforma di cyber threat intelligence. Dall'altro invece una potenza di storage, una capacità di ricerca unica e soprattutto la capacità di correlare direttamente gli eventi. Il tutto all'interno di un framework di sicurezza che deve necessariamente rispettare i parametri di sicurezza predittiva, sicurezza preventiva e sicurezza proattiva. Nel caso in cui l'azienda o lente fosse già dotata internamente di un servizio interno di cyber security, noi potremmo comunque affiancarlo con le nostre competenze, con le nostre esperienze nell'integrazione di Chronicle nel proprio sistema di difesa. Corvallis è un secure system integrator. Noi mettiamo a disposizione dei nostri clienti dei sistemi di difesa che sono basati su un cuore pulsante proprietario costituito dal cyber security defense center, CSDC come lo chiamiamo noi, e la threat intelligence di Yoroi, completato da soluzioni, altre soluzioni proprietarie o da soluzioni di mercato. In quest'ottica abbiamo scelto il CM di Google Cloud Chronicle, valutandolo un elemento importante, solido e quindi capace di completare ed estendere la nostra proposta per la difesa delle aziende e delle istituzioni. Le principali caratteristiche differenzianti di Chronicle sono che in primis Chronicle è una soluzione cloud native, quindi una soluzione che unisce caratteristiche di grande scalabilità, diciamo che virtualmente può scalare all'infinito. Un secondo punto importante è che è facile da integrare, ed è facile da integrare in particolare con la nostra soluzione di trading intelligence di Yoroi, in quanto è dotata di caratteristiche di capacità di full API che consentono di realizzare soluzioni completamente automatizzate. La collaborazione con Chronicle ci permette di ampliare le nostre prospettive di sviluppo, consentendoci ad esempio di indirizzare le problematiche di sicurezza in ambito IoT, ambito che è sempre più rilevante dal punto di vista security, ma che offre importanti sfide in termini di volume di dati e di scalabilità. Poter disporre di una capacità di ricerca estremamente raffinata come quella di Chronicle, arricchita ed armata dalle capacità di trading intelligence e dalle conoscenze della nostra business unit, assicura alle aziende una risposta e una protezione adeguate alle minacce crescenti. Questo si traduce per loro in un livello di sicurezza unico in Italia e in una scalabilità completa che assicura alle aziende la possibilità di crescere, di far crescere il proprio business mantenendo la sicurezza in focus.